Ok, buonasera a tutti, io sono Marco Binu e benvenuti a quest'ultima sessione della giornata qui al DevOps Heroes di Parma, spero sia stata una giornata per voi interessante come l'è stata per me. Questa sera sono qui per raccontarvi qualcosa relativamente a come utilizzare Azure Function scritta in PowerShell per realizzare serverless automation. Allora, ho cercato di preparare una sessione introduttiva che comunque vi faccia vedere un po' di casi d'uso reali tramite demo, demo semplificate ovviamente che poi potranno essere adattate nei vostri contesti, ma diciamo fanno una panoramica delle possibilità, delle potenzialità che ha questa piattaforma. Prima di partire, un sentito ringraziamento agli sponsor che hanno consentito di organizzare questa giornata di formazione gratuita e due veloci parole su di me. Io sono un advisor engineer, lavoro in Softgem, mi occupo di architetture, disegno ed implemento architetture per i nostri clienti, prevalentemente su tecnologia Microsoft, sia in premises che in cloud. Quindi, quando parlo di cloud, per me in questo momento il focus è su Azure. Azure è una delle mie passioni, così come è una mia passione tutto ciò che ruota intorno al mondo della data platform di Microsoft e di SQL Server. Anzi, se avete piacere, tra circa un mese ci sarà qui il SQL Saturday e io sarò presente per parlarvi, per raccontarvi qualcosa su come utilizzare PowerShell nel contesto di SQL Server. Trovate anche i miei riferimenti social, vi raccomando in particolar modo la home page di GitHub, poi troverete un link anche nelle slide finali, dove ci sarà un repository con tutte le demo che vediamo oggi e uno script per prepararvi un ambiente e mettervi in condizione di replicare quello che abbiamo fatto, che faremo qui durante la presentazione. Entriamo nel vivo della sessione. Azure Function e PowerShell. Perché? Perché questa copiata ci può dare aiuto? Innanzitutto vediamo che cosa sono le Azure Function. Le Azure Function sono una piattaforma di Function as a Service, Serverless, Event Driven. Cosa significa? Significa che noi scriveremo delle funzioni, delle routine tipicamente atomiche, qualcosa che prende un dato in ingresso, lo macina e lo butta fuori in forma di output. Queste routine possono essere scritte in linguaggi diversi, C Sharp, JavaScript, Python, eccetera. e queste routine verranno posizionate da qualche parte in Azure e verranno tenute in esecuzione. C'è una completa astrazione tra il contesto software, quindi la routine e l'hardware su cui questa gira. Noi non ci dobbiamo preoccupare di granché, come vedremo poi non è proprio così, ma in linea di massima non ci dovremo preoccupare di granché e dovremo sapere che la piattaforma offre una scalabilità molto elastica in funzione degli eventi. Più la nostra Function viene sollecitata da eventi esterni e più la piattaforma crescerà per supportare il carico di lavoro. In ultimo, in un contesto di Serverless, andiamo a pagare solo le risorse che effettivamente utilizziamo. Quindi, se siamo bravi e costruiamo delle Function efficienti, l'impegno economico potrebbe essere relativamente ridotto. Questa tecnologia, di per sé, pilotata dagli eventi, mi ha sempre attratto, diciamo. Avevo un problema nell'approcciarla legato allo scoglio da superare per entrare in questo mondo. Perché, diamine, io ho un'estrazione di carattere sistemistico, per me scrivere una routine in C Sharp comincia a fare caldo. Insomma, nella vita, scherzi a parte, si fa tutto, volendoci si può anche riuscire a scrivere una Function in C Sharp, non si tratta di mandare razzi sulla luna, però sicuramente devo metterci un livello di impegno di un certo tipo e non so se il gioco vale la candela. Da quando è stato rilasciato il supporto a PowerShell in maniera più estesa con la versione 2 del framework delle Function, mi sono interessato molto. Il supporto è ancora in preview, però è comunque già sufficientemente stabile per essere utilizzato. Praticamente mi è stato ridotto il gradino d'ingresso in questo mondo e allora ho detto, dai, proviamo a vedere come funzionano. Proviamo a vedere come funzionano e vediamo se riesco a convertire quello che nel corso del tempo ho fatto con Azure Automation. Azure Automation è lo strumento che fino all'altro ieri ci ha consentito di creare e di eseguire Runbook in PowerShell, in cloud. Ecco, vediamo se riesco a convertire questo strumento verso la nuova tecnologia basata su Azure Function. Dopo alcune prove mi sono reso conto che in realtà Azure Function non nasce per sostituire Azure Automation, ma è complementare. Ci sono tante cose che Azure Automation riesce a fare in maniera più semplice, per contro ce ne sono altre che Azure Function riesce a fare, mentre con Automation è un cinema a metterle in piedi. Quindi, pensare di fare un'attivazione basata su eventi con Azure Automation a me personalmente sembra difficile, ecco. Che cos'è una funzione? Una funzione, abbiamo detto, è la nostra routine. La routine viene scatenata da un trigger. Possiamo avere un trigger solo per ogni funzione. Se abbiamo bisogno di una funzione che venga attivata da più eventi diversi, di carattere diverso, dovremo duplicare la nostra funzione. La routine prende in ingresso un input e butta fuori un output tramite dei binding. Tipicamente l'input binding è anche fornito dal trigger. Ad esempio, se utilizziamo un HTTP trigger sulla nostra function, in ingresso a questa ci troveremo la request HTTP. Se utilizziamo un trigger di tipo Q-Trigger che sta in ascolto su una storage queue di uno storage account, in ingresso ci troveremo il messaggio che è stato recuperato dalla storage queue nella fase di inserimento. I binding sono dei modelli dichiarativi che ci consentono di interagire con il mondo esterno. Cosa significa? Significa che noi non dovremo scrivere codice per interagire con i diversi tipi di input e output. Vedremo tra poco, lato codice, noi ci troveremo una variabile in ingresso come parametro della funzione, e questa variabile conterrà il messaggio che ci passa al binding, e in uscita altrettanto dovremo popolare una variabile e utilizzare un command specifico per buttarla fuori. Andiamo a vedere un pochino dal vivo, dal portale, come funziona questo mondo. Allora, io qui ho un... Sono già sulla fase di creazione di una function app. La function app è il contenitore delle nostre function. Per creare la dobbiamo selezionare un resource group, dobbiamo dare un nome univoco, deve essere univoco a livello globale perché comporrà poi la URI della nostra function app. Diciamo che stiamo pubblicando codice, scegliamo lo stack di runtime PowerShell Core in preview. Occhio che siamo su PowerShell Core, che è leggermente diverso da Windows PowerShell, non c'è da mettersi le mani nei capelli, però bisogna tenere presente questa differenza. Region. Passiamo sulla tab di hosting. In hosting noi dobbiamo creare uno storage account, qui lo creerà, by design, la procedura al wizard. Lo storage account archivierà il contenuto della function app. Dobbiamo specificare l'operating system su cui girerà il nostro worker process. In questo momento di preview è supportato solo Windows, anche se siamo su PowerShell Core, che è multiplattaforma. E poi dobbiamo scegliere il piano di consumption per la nostra function app. Andiamo a vedere quali sono le differenze tra consumption, premium e app service plan. Allora, qui ho ricapitolato quelle che sono le differenze da documentazione. Non sono segnate tutte, la tabella era più grande, la trovate al link riportato in slide. E ho evidenziato quali sono, secondo me, gli aspetti in un contesto di automazione che ci possono spingere verso un piano piuttosto che un altro. Partiamo con il piano di default, il consumption plan. Il consumption plan è quello più orientato, tra virgolette, al mondo serverless, dove pago effettivamente quello che è impegno in termini di risorse. Abbiamo una scalabilità event-driven, quindi molto elastica, molto rapida, molto veloce. Possiamo crescere tantissimo a livello di istanze, ma al contempo abbiamo delle risorse hardware associate relativamente basse. Vedete, 100 ACU e un giga e mezzo di memoria per ogni istanza. Questa piattaforma, questo consumption plan, siccome ci permette di pagare solo quello che utilizziamo, soffre di call start. Cosa significa? Significa che se la nostra applicazione Function App rimane in idle per troppo tempo, viene reallocata. E quindi all'invocazione successiva avrà un tempo di bootstrap da scontare. E questo va a introdurre latenza. Lasciatemi dire, se in un contesto di business application dove c'è l'utente che aspetta, questo può essere un problema, magari nel contesto di automazione dove la rate delle attività da svolgere è solitamente più bassa, potrebbe non essere drammatica come cosa. Altre cose che ci possono portare fuori dal consumption plan è la durata del timeout. Durata del timeout, nel consumption plan possiamo fare funzioni che devono chiudersi tra i 5 e massimo 10 minuti. Quindi funzioni relativamente brevi. Diciamo che normalmente per una function questi sono già tempi abbastanza lunghi, ma in un contesto di automazione fatta con PowerShell non è che stiamo parlando di tempi così esagerati. Pensate a un'automazione che vada a spegnere e accendere le virtual machine su un resource group. Ecco, qui i tempi, il commandlet ci mette già dei minuti di suo per una singola esecuzione. Se andiamo a serializzarla potrebbe diventare un problema. In ultimo, altro concetto importante nel contesto dell'automazione, vNet integration. La nostra function app, se la creiamo sul consumption plan, non potrà integrarsi con la virtual network e quindi lavorerà solo a livello di risorse. Non potremo raggiungere risorse in rete interna, quindi virtual machine per esempio, oppure servizi pass distribuiti con un service endpoint. Se abbiamo distribuito un servizio pass, uno storage account, un Azure SQL database e quant'altro, collegato alla nostra vNet con service endpoint per chiudere la sicurezza di quel servizio, la nostra function app non riuscirà a dialogarci se sta sul consumption plan. Possiamo fare un passaggio verso il premium plan che è ancora in preview. Il premium plan ci dà a disposizione più ferro, le istanze, le singole istanze sono più carrozzate e per il resto, in linea teorica, scala come il consumption plan. È sostanzialmente un piano serverless sempre ma più carrozzato. Non abbiamo più problemi di timeout che può andare dai 30 minuti di default all'infinito, quindi qui non avremmo grossi problemi. Non soffre di call start a differenza del consumption plan. Perché? Perché nel premium plan c'è sempre come minimo un nodo in warm up. Se anche la nostra funzione non viene scatenata, comunque ci sarà sempre un'istanza lì pronta per risponderci. Questo ovviamente però ci viene fatto pagare, quindi su questo piano abbiamo un fisso mensile a cui aggiungiamo poi il consumo delle function. Abbiamo la v-net integration in questo caso e così come abbiamo la v-net integration nell'app service plan. L'app service plan è, diciamo, lascia da parte il concetto serverless e sostanzialmente ci dà una capacità dedicata predefinita. Gli app service plan sono quei servizi che tengono in piedi le web apps su Azure, l'app service sostanzialmente. Quindi quando noi compriamo un app service plan riserviamo una certa capacità di calcolo per le nostre esecuzioni, paghiamo un fisso mensile, qui non c'è più il discorso di quanto consuma le invocazioni delle nostre function app e poi godiamo di tutte le feature che stanno sotto a un app service plan sostanzialmente. L'app service plan ha un concetto di auto scale che è un po' più, lasciatemi dire, legacy rispetto ai piani serverless. Potete impostare l'auto scale ma è meno dinamico, meno esplosivo come funzionamento. Ok, torniamo sul portale. Blade di monitoring. Qui possiamo creare un application in site caldamente consigliato per capire cosa succede durante l'esecuzione delle nostre funzioni e poi siamo pronti a partire. Quando quando creiamo il tutto ci troviamo con un resource group con queste risorse dentro il consumption plan la function app l'application in site e lo storage account. Se entriamo dentro la function app ci troviamo davanti questo oggetto. La function app è un oggetto che conterrà poi le nostre funzioni è una sorta di contenitore una sorta di root folder. Se andiamo nelle platform feature dovreste trovare una serie di icone che se siete familiari con il mondo degli app service in Azure vi dovrebbero ricordare qualcosa. Se andiamo a vedere all settings quindi tutti i settaggi dell'applicazione vedete che la nostra function app è identificata come app service quindi i due oggetti sono strettamente legati. siccome sono strettamente legati la function app dispone anche di app settings. Cosa sono gli app settings? Gli app settings sono variabili che definiamo a livello di function app. In queste variabili possiamo inserire dei valori come ad esempio credenziali o stringhe di connessione e quant'altro. Questi valori qui sono archiviati a livello di function app non stanno dentro il codice. Questo l'utilizzo di questi parametri ci dà ad esempio la possibilità di creare del codice universale tra diversi ambienti una function app di dev una function app di test una function app di prod questo codice universale referenzierà gli app settings e di conseguenza a seconda di dove lo deployamo avremo connessioni verso sistemi diversi per dire. Andiamo a creare la nostra prima function. Clicchiamo qua ci viene richiesto che tipo di esperienza vogliamo utilizzare andiamo a lavorare da portale per il momento. ci viene richiesto che tipo di template vogliamo utilizzare per la nostra function app qui vediamo tutta una serie di trigger che possiamo scegliere scegliamo l'http trigger l'http trigger ci propone di utilizzare un authorization level qui possiamo scegliere tra tre tipologie di autorizzazione l'http trigger è diciamo espone la nostra web app al resto del mondo diciamo chiunque faccia un'invocazione all'http trigger manderà in esecuzione la nostra function app ci sono dei limiti poi vedremo contesto di sicurezza e quant'altro una prima forma di sicurezza per rendere un po' meno accessibile la nostra function app è quella di utilizzare delle chiavi chiavi che sono gestite a livello di function app abbiamo una chiave di funzione che consente l'accesso solo alla singola funzione e una chiave di tipo admin che è la chiave la master key che consente l'accesso a tutte le funzioni ospitate sulla function app in ultimo possiamo ovviamente dire che andiamo in anonymous e chiunque può usare il trigger può richiamare il trigger cosa significa assegnare una chiave significa che quando faremo l'invocazione della nostra function dovremo specificare in query string o all'interno del header della richiesta la chiave stessa altrimenti la richiesta verrà rifiutata lasciamo function che è il default e vediamo cosa succede vediamo cosa succede ci viene aperta ci viene aperto un editor per la function e questo editor contiene un template di utilizzo del trigger che abbiamo selezionato ora com'è composta la nostra function andiamo su view files e troviamo un run ps1 che è questo script che vediamo qui contiene il codice powershell e abbiamo un function json questo function json contiene la definizione ad esempio dei binding della funzione stessa in questo caso abbiamo un trigger http che si presenterà dentro il codice con il nome request e abbiamo un http output che si presenterà dentro il codice come response se andiamo a vedere in run ps1 vedremo che ci arriva un parametro request che possiamo manipolare e per far uscire qualcosa da questa function dovremo popolare un oggetto di nome response in questo caso un http output una response dobbiamo creare un oggetto di tipo response con i suoi parametri proviamola questa funzione qua sostanzialmente fa le low word cerca la chiave nome in query string o all'interno del body se è valorizzata ci dice ciao se no ci torna un errore come la testiamo possiamo farlo qui da portale aggiungendo una query string oppure sfruttando questo box per scrivere il body della nostra funzione allora qui è già prepopolato mandiamola in esecuzione quando la mandiamo in esecuzione si apre questa finestra di log stream dove vediamo in tempo reale cosa sta succedendo tutto quello che scriviamo nella nostra function write host write information write debug write verbose write error eccetera apparirà qui sotto apparirà qui sotto e ci consenterà di capire in real time cosa sta succedendo ovviamente per le voci di debug dovremo andare a configurare il livello di debug che vogliamo utilizzare nella sottoscrizione ok qui ha finito il primo c'era il cold start di mezzo adesso dovrebbe essere più rapido se cambio nome dovrei ottenere un http 200 e cambia ovviamente il nome se svuoto il body non troverà nulla e quindi mi tornerà un http 400 cos'altro possiamo fare da portale possiamo gestire trigger input e output in maniera visuale senza stare a toccare il json che vi ho fatto vedere prima possiamo gestire lo stato della funzione generare nuove chiavi possiamo monitorare l'esecuzione qui l'esecuzione ha un certo delay perché si aggancia ad application insight quindi l'application insight deve avere il tempo di fare l'ingestion dei dati ma possiamo vedere anche le live app matrix vedremo poi dopo anche negli esempi dove ci si attacca in real time al worker process e vediamo che cosa sta succedendo dietro le quinte qui vedremo poi i propri messaggi passare ora ci mette un attimo ad agganciarsi poi lo tanto lo vediamo nella demo ok questa è l'esperienza d'uso da portale se vogliamo utilizzare un approccio un po' più strutturato possiamo lavorare ad esempio da visual studio code per lavorare da visual studio code abbiamo bisogno di un'estensione come minimo che è la azure function vi consiglierei di installare quella che si chiama azure tools che raccoglie tutte le estensioni legate al mondo azure oltre a questo a questa estensione vi serve un binario che si chiama azure function core tools che vi rende disponibile l'engine delle function in locale quindi potrete fare debug in real time vi faccio vedere ad esempio prendo questa funzione faccio f5 fa partire questo sistema di gestione delle function del run time e qui sostanzialmente è come se stessimo eseguendo la funzione in cloud col vantaggio vedete la host qui in localhost e ci espone tutte le funzioni che abbiamo definito dentro la nostra function app ci espone tutte le funzioni noi ad esempio io ho qui preparato un una invocazione su postman ha di nuovo quella funzione hello world che abbiamo visto prima vediamo se funziona nel mentre questa lavora qui vediamo passare i messaggi che vedevamo sulla log stream e possiamo anche mettere del codice nella nostra dei breakpoint vedete nel nostro codice e quindi fare debug in tempo reale ok torniamo un attimo qua abbiamo visto prima una veloce struttura di folder allora abbiamo detto la function app e la root folder la vedete rappresentata lì si presenta proprio così all'interno del del file system della diciamo dell'host che ospita la funzione quindi abbiamo una root folder con all'interno le folder corrispondenti alle singole function con dentro il run ps1 e il function json poi possiamo definire una folder modules all'interno del quale andiamo a caricare tutti i moduli powershell che ci servono per operare sui sistemi ad esempio se vogliamo fare lavori su determinate funzioni di azure ci serviranno dei moduli aggiuntivi possiamo decidere di metterli lì dentro li salviamo li archiviamo lì dentro verranno distribuiti quando facciamo il deployment sulla nostra function e quindi i commandlets saranno disponibili un'alternativa a questo approccio è quella di utilizzare le managed dependencies che sono gestite all'interno del file host json ve lo faccio vedere allora all'interno del file host json tanto qui chiudiamo così possiamo lavorare un po' più larghi abbiamo questo campo managed dependency che quando è valorizzato a true implica che la nostra function app sia collegata alla powershell gallery e quindi in condizioni di recuperare e tenere aggiornati moduli in autonomia i moduli che recuperiamo dalla powershell gallery sono definiti dentro requirement psd1 di default trovate il modulo azeta quindi la function è già in condizione di lavorare con azure sostanzialmente di default in qui possiamo indicare ulteriori moduli come questo che ho messo di azure resource graph e questi moduli verranno scaricati la prima volta che viene rilevata la loro assenza quindi quando inseriamo il modulo qua dentro facciamo il deployment alla prima esecuzione verrà scaricato il modulo e dopodiché verrà a intervalli regolari verificato se è aggiornato o meno ed eventualmente aggiornato vediamo qualche esempio pratico di cosa ci possiamo fare con questo robo a parte fare un hello world allora qui ho ipotizzato di dover realizzare un report schedulato da inviarsi via mail nello specifico ho creato una function triggerata da uno scheduler da un timer trigger la quale va a interrogare azure resource graph esegue una query e si fa tornare un output lo formate in html e tramite un sendgrid account ci invia la mail come funziona questo sistema allora andiamo a vedere qui la function resource report allora nella definizione del json abbiamo un trigger di tipo timer trigger con una schedule indicata in forma di cron expression abbiamo poi un output di tipo sendgrid che richiede una api key qui dovete creare un sendgrid account generare una nuova api key e io in questo caso l'api key l'ho messa negli app settings qui quindi sto referenziando il valore di un app setting e non ho scritto la chiave qua in chiaro diciamo nella funzione che cosa faccio vado a comporre una query questo query language kql che poi sarà passata ad azure resource graph tramite questo commandlet che arriva dal modulo azure resource graph az resource graph come vedete non ho importato il modulo perché è già disponibile in quanto l'ho messo nel requirement psd1 l'output l'ho formato in html e poi vado a compilare una struttura che produrrà un json da passare all'output binding una volta passato il valore all'output binding qualcuno per me dietro le quinte provvederà a invocare il sendgrid account e a farmi arrivare la mail l'output di questa funzione adesso ho chiuso la mail ovviamente ho chiuso la mail vediamo se riesco a farvelo vedere l'output di questa funzione è di questo tipo sostanzialmente vi arriva a una mail formatata in html da un sender che specificate voi a un recipe che specificate voi e dentro io gli ho stampato una tabella con i risultati in questo caso ho fatto una query per farmi tornare la lista dei managed disk disponibili sulla sottoscrizione ma non associati a una vm che quindi mi stanno sostanzialmente facendo pagare dei soldi per nulla ok questo è un possibile esempio di utilizzo vediamone un secondo scusate con che prevede l'utilizzo sempre di un modulo esterno ma non gestito tramite le managed dependencies in questo scenario io ho ipotizzato di invocare una funzione tramite un http trigger questa funzione fa l'esecuzione di una query su un Azure SQL database e mi butta in output il resoconto in questo caso qui rezz SQL DB abbiamo sempre http trigger in ingresso e http in output dentro il codice cosa faccio uso il commandlet invoke SQL CMD invoke SQL CMD con l'utilizzo di variabili d'ambiente quando utilizzo queste variabili d'ambiente sto referenziando degli app settings da dentro PowerShell quindi queste variabili d'ambiente sono popolate da valori dell'app settings la variabile d'ambiente SQL server corrisponde all'app settings SQL server questo mi consente di far sì che appunto di non dover scrivere dati sensibili all'interno del codice della function allora vi faccio vedere come funziona da portale perché qui c'è un aspetto interessante allora devo andare su function app quella giusta ad esempio in consumption vado in app settings ok qui dentro trovate i miei valori che ho riferenziato in forma di variabile d'ambiente come potete vedere qui non c'è il valore effettivo del nome del SQL admin o la sua password ma ci sono delle referenze al key vault quindi posso fare integrazione con un key vault esterno per ulteriormente proteggere i miei dati sensibili come funziona questa parte qua e di converso come ha funzionato l'interrogazione ad Azure resource graph nella funzione precedente allora quando creiamo una function app noi possiamo assegnarle una identity una managed system identity questa identità corrisponde alla creazione di un entry point in Azure Active Directory tramite questa referenza in Azure Active Directory noi potremo assegnare alla nostra function dei ruoli RBAC sulle risorse con cui questa deve operare di conseguenza ad esempio se andiamo a prendere il resource group vediamo se lo trovo da qua se riesco a risalire il resource group dove sta la function scusate ho cliccato male ecco in questo resource group se vado in access control troverò un ruolo definito per le mie function app analogamente se vado a vedere il key vault dentro il key vault ho creato un access policy per la mia function app che le consente di fare la get dei segreti quindi in questa maniera posso gestire la sicurezza la function app di suo sfrutta il file profile ps1 che è un file di profilo analogo al file di profilo che avete in powershell diciamo sulla vostra macchina all'interno del quale di default è presente la connect zaccount quindi quando la function parte per la prima volta o diciamo alla prima esecuzione o comunque dopo ogni call start richiama questo profilo che fa il login su azure e quindi venite rappresentati con la managed identity che avete selezionato torniamo alla funzione la funzione abbiamo detto fa un invoq su quel cmd utilizzando i parametri e all'atto pratico si presenta così apro un'istanza del browser perché formatta meglio l'output rispetto a postman ed ecco qua l'invocazione ha prodotto questo output quindi utilizzando un modulo gestito manualmente non con le dipendenze lo trovate qui nella folder dei moduli di nuovo sono riuscito a invocare il cmdlet anche qui l'import module non c'è perché il modulo stando dentro la folder modules il modulo è già precaricato ed assolutamente da evitare l'install module eseguito a runtime dentro il codice perché a ogni esecuzione della function viene provato cioè fa prova a fare un import module e questo porta via del tempo andiamo oltre e vediamo un ulteriore scenario questo secondo me è interessantissimo per la parte delle Azure function allora io qui ho ipotizzato di avere delle virtual machine di produzione che non possono mai essere spente se non quando sono marcate per manutenzione come facciamo a far sì che se qualcuno ce le spegne perché magari abbiamo assegnato dei privilegi in maniera non oculata o c'è stato un problema di qualsiasi tipo come facciamo ad accertarci che le macchine ripartano allora io ho creato una sottoscrizione event grid sull'evento di spegnimento di allocazione della macchina questa sottoscrizione quando viene questa sottoscrizione di event grid quando viene triggerata scatena una azure function la quale va a verificare il tag della vm e se questa non è segnata per stare in maintenance la riaccende allora andiamo a vedere su portale event grid subscription io l'ho creata con uno scope a livello di resource group ma avete altre possibilità vediamola un attimo appunto è sottoscritta al topic del resource group e in filtri prende va a processare tutte le richieste che hanno un resource action success possono essere tantissime a seconda di cosa c'è dentro il resource group e da queste resource action success io vado a filtrare solo quelle che parlano di eventi di allocazione di power off della macchina come le filtro andando a fare parsing del payload dell'evento che mi arriva da event grid questo parsing lo potete fare tramite una web app di monitoraggio che trovate negli azure sample nello script di preparazione dell'ambiente demo ho inserito anche la creazione di questa sostanzialmente andrete a creare una sottoscrizione identica a questa ma anziché referenziare in output il webhook della vostra function andrete a referenziare la URI della web app di monitoraggio e quando l'evento viene triggerato la web app vi mostrerà il payload json e quindi capirete come è la struttura del json e come fare parsing su questa parte qui ok detto questo poi la funzione al suo interno è piuttosto semplice allora abbiamo qui un binding in input solo di tipo event grid trigger andiamo a fare la get dell'evento facciamo parsing dell'evento e ci facciamo tornare il lauri della risorsa che ha scatenato l'evento sappiamo per via del filtro che abbiamo applicato prima che trattasi di una virtual machine quindi facciamo una get della VM e andiamo a controllare il task il tags scusate e se il tag non è in maintenance true la riaccendiamo all'atto pratico questa si presenta così allora qui ho filmato per tagliare i tempi morti cambio il tag lo metto a false salvo fermo la macchina la macchina si sta fermando io posso andare a vedere qui nella event grid subscription mi vado a posizionare sulla pagina che vi ho fatto vedere prima sostanzialmente qui in questo grafico che adesso non si popolerà perché c'è stato un problema di refresh ma normalmente quando viene sollecitato l'evento su event grid vedrete uno spike corrispondente all'evento qui per vedere cosa stava succedendo sono andato poi nella parte di diagnostica della della funzione interessata su monitor mi sono agganciato ai live app metrics e nella telemetry non appena parte si vede in questo punto che ha già riconosciuto la vm e ha visto che non era marcata per maintenance poi piano piano arriveranno i messaggi di vm in fase di riavvio e se andiamo a vedere se ci spostiamo torniamo sulla virtual machine ci rendiamo conto che è ripartita quindi questo è un esempio di modalità di reazione estremamente veloce a un evento tramite Azure Function in PowerShell vediamo sempre l'utilizzo di Azure Function per reagire invece a un messaggio di carattere diverso qui abbiamo fatto un'integrazione con Azure Monitor Azure Monitor è quella piattaforma di monitoraggio che racchiude al suo interno tutti gli strumenti di monitoraggio Azure ed è in grado di collezionare metriche e log dei diversi sistemi e correlarli tra loro nel corso del tempo possiamo fare delle query di analitica sopra quindi andare a capire come stanno funzionando i sistemi e in funzione di qual è l'andamento delle metriche che ci interessano possiamo attaccare degli alert e di conseguenza possiamo far sì che al superamento della soglia di una certa metrica venga scatenato un alert e quindi possiamo agganciare anche un piano di autoremediation al nostro sistema in questo caso io ho ipotizzato ho fatto un esercizio di stile e ho creato una sorta di meccanismo di autoscale per un Azure SQL database qui ho un Azure SQL database registrato sotto Log Analytics Workspace ho creato una metrica un alert sulla metrica delle percentuali di utilizzo DTU quando la percentuale di utilizzo di DTU sale sopra un certo valore e mi significa che il database comincia a essere in crisi scateno un evento di upscale ora ho detto che è un esercizio di stile perché benché questo sistema funzioni nel contesto di Azure SQL database un upscale potrebbe essere un problema quando muoviamo la risorsa cioè quando facciamo un resize della risorsa il database viene spostato da un host all'altro e tutto ciò che è in esecuzione tutte le query che sono in esecuzione vengono rollbackate se abbiamo in esecuzione una long running query in background questa viene rollbackata e potrebbe non essere lo scenario desiderato ciò nonostante ai fini di una demo questo meccanismo funziona vi faccio vedere come è il giro del fumo qui allora vado su monitor vado in alert manage alert rule qui devo beccare quelle disabilitate perché questa faceva continuamente crescere il mio db perché l'ho settata su una soglia troppo bassa a fini di demo allora io qui ho un alert correlata a un oggetto di tipo database specifico con in ascolto sulla metrica di tu percentage e quando la metrica di tu percentage è sopra l'1% sempre per fini di demo la mia alert richiama questo action group l'action group è un insieme di azioni che vengono scatenate appunto dall'alert se vado a vedere cosa c'è dentro questo action group troverò un'azione di tipo azure function ce ne sono diverse e qui dentro io ho referenziato la mia azure function az sql upscale parallelamente per fini di debug ho agganciato anche un action di tipo webhook invocando il servizio request bin che ho trovato su internet questo è un servizio gratuito dove potete creare una coda con un suo webhook e potete diciamo agganciarla a servizi come questo in modo tale che quando viene scatenata l'alert il webhook venga richiamato e nella coda sul sito di request bin voi vi possiate trovare il payload json della vostra richiesta cioè di quello che vi è arrivato quindi in questo caso vi ritrovate il json che l'alert vi fa arrivare e quindi potete analizzarlo e capire quali sono i campi su cui fare parsing per compiere le diverse azioni lato powershell questa funzione di azsql upscale riprende un http trigger in ingresso butta fuori un http output nell'esecuzione qui è un po' più complessa potevo anche strutturarla diversamente cosa faccio recupero dalla alert faccio il parsing del json del payload json e mi recupero la lista di item che hanno scatenato questa alert per ogni item nella lista tipicamente una vado a fare una get del database mi faccio dire che taglia ha se di conseguenza poi faccio una get sulla region e mi faccio dire qual è la taglia successiva rispetto a quella corrente del database e se non coinpacciano perché magari qualcuno ha scatenato un upscale da fuori allora mando in esecuzione il comando di upscale all'atto pratico di nuovo questa si presenta così io ho un database entire basic che non sta pressoché facendo nulla vado a vedere la metrica sul percentage molto bassa sotto il 4% genero un po' di workload da powershell per far salire il counter comunque avevo settato la trigger sopra l'1% quindi parte subito e quando vado a fare un refresh del db qui è già salito a s0 quindi alla taglia successiva al basic ora qui ovviamente sembra tutto veloce perché ho tagliato i tempi morti per non tenervi in attesa con la rotellina che girava questo sistema a differenza di quello che succede con azure con event grid è più lento perché perché abbiamo il leisure SQL database che deve mandare i messaggi a log analytics log analytics deve persisterli e renderli disponibili nel motore di query il motore di query li deve consultare deve capire che nel in un certo intervallo temporale definito nel concetto di alert quel lo specifico campo quella metrica è ha oltrepassato la soglia tutto questo come minimo richiede una decina di minuti quindi l'azione poi sul database viene fatta la svelta dalla function ma il tempo di invocazione della function richiede un po' più di tempo ok andiamo oltre e parliamo di un argomento che secondo me nel contesto di automazione ha molto senso la vnet integration cosa significa vnet integration significa che la nostra function app che è distribuita in un contesto multitenant di Azure al di fuori della nostra infrastruttura sarà in grado di collegarsi con l'infrastruttura stessa di entrare dentro l'infrastruttura e diciamo interagire con essa in un contesto di automazione lavorare come vi dicevo prima con il guest host di una virtual machine oppure riuscire a invocare servizi pass che sono collegati tramite un service endpoint può capitare frequentemente allora abbiamo detto che i piani diversi offrono possibilità diverse di integrazione nello specifico il consumption plan è quello più castrato permette solo di applicare delle inbound IP restriction ed eventualmente configurare i service endpoint cosa significa che questa non è una forma di integrazione quanto una forma di protezione con la rete dalla rete possiamo dire che la nostra function app verrà invocata solo da IP specifici o da reti specifici di specifiche che appartengono a noi in modo tale da aumentare il livello di sicurezza dell'invocazione tutti gli altri piani invece a partire dal premium per arrivare all'app service plan e all'app service environment offrono invece l'integrazione con la rete vera e propria come lo fanno? lo fanno integrandosi a livello di v-net vediamo i diversi scenari regional v-net integration questa modalità è quella consigliata quando dovete interagire con una v-net distribuita all'interno della stessa region azure dove sta anche la function app in questo caso cosa succede? dentro la v-net viene creata una subnet dedicata all'interno della quale la function app mette una zampa e da lì riesce a raggiungere la roba che ha intorno se la v-net è in peering con altre v-net la nostra function app riuscirà a raggiungere anche queste altre v-net se la v-net con cui siamo integrati dispone di una connettività cross-premises con una vpn site-to-site o express route ad esempio la nostra function app riuscirà anche a raggiungere ad esempio on-premises gli ambienti on-premises ora ovviamente questo funziona se non ci sono dei blocchi a livello di networking tipo i network security group altrimenti abbiamo già finito modalità legacy da usarsi diciamo funzionava già prima della regional v-net integration adesso è stata un po' accantonata rimane in auge solo se dovete collegarvi a reti di tipo classic ASM o se vi dovete collegare a reti in altre region rispetto a dove sta la function app allora in questo caso cosa succede? che sfruttiamo il gateway della virtual network che è un oggetto a parte che ha un suo costo sfruttiamo il gateway della virtual network per realizzare una connessione point to site dalla nostra web app della nostra function app scusate verso la v-net una volta che questa connettività è stabilita sostanzialmente tutto funziona come nello scenario precedente app service environment qui la la connettività con la rete privata esce tra virgolette a gratis perché l'app service environment è una modalità di app service distribuita all'interno della vostra virtual network sostanzialmente vi viene riservata una porzione della piattaforma multi tenant che viene distribuita e agganciata dentro la vostra virtual network e di conseguenza potrete raggiungere i device che stanno vicino a voi ecco l'app service environment ha un costo molto importante mensile diciamo è difficile che voi andiate a distribuire un app service environment per fare solo automazione è più probabile che magari possiate utilizzare un app service environment appoggiandoci una function app se avete già distribuito questo oggetto per altri motivi e avete ancora un po' di capacità di calcolo a bordo disponibile per le vostre function in ultimo cito la hybrid connection la hybrid connection è basata sul servizio Azure Relay e tramite l'hybrid connection manager che è un servizio da installare a bordo di una macchina ponte vi consente di raggiungere un endpoint in una rete remota tramite una copiata IP porta in questo caso quindi non avete un'integrazione con un'intera rete ma andate secchi su un servizio che definite voi questo servizio è interessante citarlo perché seppur limitato rispetto alle altri scenari vi permette ad esempio di raggiungere una risorsa on premises se non avete una virtual network con connettività cross premises per andare a terra diciamo con la vnet integration voi avete bisogno della vnet dovrete entrare lì dovete attraversare la vpn site to site e scendere a terra se questo sistema non ce l'avete con questa con quest'altra soluzione dell'hybrid connection potete andare direttamente dalla function app a terra vediamo come funziona questa integrazione con la vnet allora noi abbiamo una funzione che fa scusate torno qui sull'immagine vi racconto triggerata da una http request fa una get su un web server distribuito all'interno di una rete privata quindi lo contatterà tramite il suo ip privato e butterà in output la response della funzione stessa quindi pubblicherà nella response il contenuto della home page del web server qua allora lato codice è piuttosto banale binding e output e qui facciamo banalmente un invoke rest method passando puntando a una urina http con l'ip che viene recuperato dalla query string o dal body se facciamo l'invocazione qui ha funzionato ha funzionato e siamo andati a terra ora vi faccio vedere da portale come si fa a fare l'invocazione allora devo andare sulla function app qui ho fatto una function app legata un app service plan apposta per avere la v-net integration sul consumption abbiamo detto non ce l'abbiamo vado in platform feature vado nella tab networking e qui trovo tutto già configurato sostanzialmente quando apro questa blade a bocce ferme diciamo senza avere già la la v-net integration io avrò un wizard che mi dice su quale v-net voglio collegarmi e su quale subnet oppure potrò creare direttamente da qui una subnet dedicata per questo servizio allora se avete notato nella invocazione io ho puntato a un ip privato che è l'ip privato del mio web server questo è importante cioè io ho lavorato tramite ip perché sulla v-net dove mi sono collegato non ho un dns server custom quindi cosa succede questa funzionalità qua di v-net integration non è in grado di lavorare con il dns fornito dalla virtual network di azure di default quindi non sono in grado di fare risoluzione dei nomi devo puntare direttamente a un ip se invece avessi avuto un dns ospitato in rete ad esempio un domain controller di active directory e avessi configurato la v-net per rispondere al dns custom allora la mia function app sarebbe stata in grado di sfruttare la risoluzione dei nomi e avrei potuto puntare ai nomi delle mie macchine questo per dire che qui vedete rappresentato un ip ma ci sono anche delle altre possibilità non è non è limitato solo al raggiungimento tramite ip che potrebbe essere fortemente limitativo in un contesto di automation parliamo adesso invece di sicurezza facciamo un accenno al contesto di sicurezza perché perché se noi facciamo automazione tipicamente faremo compiremo dei task di carattere amministrativo noi non vogliamo che qualcuno senza gli adeguati privilegi possa invocare la nostra function che accende o spegne virtual machine sarebbe un grosso problema come facciamo ad aumentare il livello di sicurezza della function app possiamo intervenire a livello di networking come abbiamo visto prima utilizzando le restrizioni a livello di ip o i service end point possiamo intervenire a livello di app service environment se ce l'abbiamo possiamo sfruttarlo per le nostre function app e far sì che appunto questo diciamo le function siano distribuite all'interno della nostra virtual network verso l'esterno l'abbiamo visto prima possiamo sfruttare la managed identity della function app quindi possiamo assegnare alla function app dei privilegi ovviamente dovranno essere dei privilegi tagliati su quello che la function app deve effettivamente fare tutte le function dentro una function app condividono la managed identity quindi se abbiamo dei problemi di segregation of duties non può essere consigliabile fare più di una function in modo tale da poter assegnare dei privilegi puntuali poi ovvio che se noi prendiamo la nostra function app e le diamo owner a livello di subscription allora basta abbiamo finito di parlare sostanzialmente sull'invocazione come facciamo a proteggere l'invocazione specialmente degli http trigger che sono quelli più esposti tutti gli altri servizi sono triggerati da oggetti che a loro volta devono essere autenticati in qualche maniera quindi lasciatemi dire sono forse un po' meno sensibili all'esposizione verso l'esterno l'http trigger invece è un oggetto che per sua definizione è aperto a tutti a meno che non andiamo ad applicare delle limitazioni di networking sull'invocazione possiamo intervenire con le chiavi che abbiamo visto prima andando a mettere la function o la master key e quindi diciamo se il chiamante non ci passa queste chiavi che in linea teorica dovrebbero essere degli shared secret allora non riesce a invocare la function il problema è che appunto essendo shared secret il loro livello di sicurezza è relativo e non sono consigliabili in contesti di produzione la documentazione per il contesto di produzione suggerisce l'utilizzo di un'integrazione con un authentication provider che può essere ad esempio Azure Active Directory gestione dei dati sensibili anche in questo caso abbiamo già visto qualcosa con l'utilizzo degli app settings quindi l'inserimento dei dati sensibili lì che rimangono a livello di function app oppure l'integrazione con il key vault per avere un livello ancora superiore ora questi concetti li andiamo a mettere insieme al concetto anche di scalabilità e vediamo l'ultimo esempio un po' più complesso allora io qui cosa devo fare devo accendere e spegnere le virtual machine di un resource group lo voglio fare però non invocando direttamente una funzione ma creando un primo principio di diciamo di un'idea di automazione per per tutti gli utenti e quindi sostanzialmente questa attività verrà scatenata a seguito dell'inserimento di un messaggio all'interno di un canale di teams quindi io vado sul canale di teams scrivo un messaggio in una certa forma avrò una logic app che sta in ascolto e questa logic app dovrà invocare la function siccome la function è abbastanza problematica in termini di sicurezza perché accende e spegne cose ho definito che la function venga richieda l'autenticazione su Azure AD di conseguenza la logic app per invocarla dovrà prima andare verso Azure AD e ottenere il necessario per poi presentarsi dalla function app interviene poi il problema della scalabilità come dicevamo prima su PowerShell noi riusciamo a eseguire una funzione alla volta sul worker in un contesto di questo tipo dove accendiamo e spegniamo le virtual machine l'operazione sarebbe piuttosto lunga perché se dobbiamo processare una alla volta le virtual machine i tempi della funzione si allungano notevolmente un esempio di approccio a questo problema può essere quello di disaccoppiare l'esecuzione quindi io non ho una function che fa la get delle virtual machine e poi le processa ma ho una function che è quella autenticata che fa la get delle virtual machine in output scrive dentro una storage queue e ci scrive dentro un messaggio per ogni virtual machine dicendo il nome della virtual machine interessata il resource group dove si trova e la action che deve compiere triggerata dall'inserimento dei messaggi sulla storage queue abbiamo una seconda function che va a beccare il messaggio in ingresso lo interpreta e poi va effettivamente a fare l'attività questa function può essere eseguita n volte in parallelo ora qui andiamo a picchiarci con un altro problema quando abbiamo volumi così relativamente bassi intorno alla decina quindicina ventina di messaggi sulla coda le Azure function non scalano in orizzontale quindi noi comunque ci troviamo con un'unica macchina che processa questi messaggi e potendo eseguire una function alla volta sarà un po' diciamo in sofferenza comunque i tempi sono lunghi quello che possiamo fare è specificare un parametro a livello di app settings che vi faccio vedere dopo questo parametro a livello di app settings sostanzialmente vi dà la possibilità di eseguire più processi PowerShell all'interno della macchina che sta ospitando la function app e di conseguenza parallelizzare l'esecuzione questo parametro è sfruttabile in contesti dove le funzioni che eseguite non sono particolarmente impegnative in termini di CPU o di I.O altrimenti sedete completamente il sistema in questo caso noi abbiamo uno start ZVM o uno stop a ZVM sono operazioni leggerissime che hanno solo dei lunghi tempi di elapsed perché aspettano che la macchina effettivamente sia partita o si sia fermata allora andiamo a vedere un pochino come è strutturata la questione andiamo a vedere la logic app e allora io ho una logic app che è in ascolto sul canale di Teams legge i messaggi in ingresso e fa un parsing per vedere se arriva un comando di start o stop della WM e dopodiché invoca la la function invoca la function andando a utilizzare un'autenticazione di tipo managed identity con un determinato tipo di audience trovate dettagli su come configurare questa integrazione con la function verso Azure AD e la logic app in un post che ho scritto sul mio blog quindi non entro poi più di tanto nel dettaglio qui anche perché sennò andiamo lunghi quindi la function che parte abbiamo detto ne abbiamo due abbiamo questa get che prende l'http trigger in ingresso e scrive in una coda in uscita recuperando il nome della coda dove scrive negli app settings questa fa la get delle WM e per ogni oggetto trovato va a scrivere un messaggio nella coda abbiamo poi questa seconda function che è alimentata dalla coda in questo caso l'ho disabilitata per non far scoppiare il finimondo ma in realtà poi a regime deve stare abilitata e qui niente in funzione del messaggio che gli arriva va a capire se avviare o fermare il tutto all'atto pratico torniamo qui e vediamo cosa succede io vado su teams start WM resource group scateno il trigger a mano per non aspettare anche se l'avevo puntato ai 30 secondi ecco che l'invocazione è andata a buon fine quindi il processo di autenticazione è passato se vado a vedere nella function app la seconda scusate nella function la seconda quella che cambia lo stato delle WM vado nel live matrix e dalla telemetria se e quando si aggancia non ricordo se qui sono riuscito a registrarla comunque quando parte dovrei vedere i messaggi delle virtual machine che partono nel frattempo comunque basta andare a vedere sulle virtual machine e si vedono che sono tutte in starting in parallelo non c'è un approccio sequenziale ecco questo approccio qui funziona con andando a specificare nella function app un parametro di app settings scusate che sono andato nel posto sbagliato no ho cliccato male allora negli app settings qui della mia function app trovo il parametro che vi dicevo tempo che carica ecco qua ps worker in approach concurrency upper bound questo valore che è un integer dice quanti processi posso scatenare all'interno dello stesso host sostanzialmente quindi io posso avere un parallelismo fino a 10 entità in questo caso ci sono dei valori da testare da provare a vedere fin quanto regge il gioco ecco allora questo numero che ho fatto qui potrebbe non essere l'unico approccio a un'esecuzione di questo tipo e ho notato che funziona per esperienza funziona praticamente solo con gli app service plan nei piani a consumption anche con quello premium io ho avuto qualche difficoltà cioè il codice della funzione ovviamente è lo stesso ma non riesce a lavorare come dovrebbe si va comunque in time out c'è da studiarci un po' se serve fare applicazioni di questo tipo vi dicevo c'è un'alternativa che troverete poi nel repository devo finire di scriverla ho cominciato a scriverla questa mattina c'è una funzione di c'è un modulo già integrato e disponibile nelle function si chiama threadjob tramite threadjob potete fare uno start threadjob che è sostanzialmente l'equivalente di uno startjob che fareste su windows powershell e quindi vi permette di eseguire dei task in background con il vantaggio che in questo scenario fate partire dei thread e non dei processi powershell in parallelo quindi un'alternativa potrebbe essere quella di fare una funzione monolitica che fa la get e poi all'interno della get creare dei thread in background che eseguono le operazioni sulle VM di accensione e spegnimento ovviamente poi bisogna aspettare che questi thread abbiano finito perché se no se la funzione esce viene troncato tutto bene direi che è tutto scusate recupero la slide corretta vi lascio con qualche link di materiale utile trovate le demo in questo repository GitHub trovate la documentazione ufficiale l'interazione con Azure AD guardate date un'occhiata a questo repo GitHub è molto interessante è stata rilasciata un paio di settimane fa e sostanzialmente permette di utilizzare il modulo di Azure AD da dentro PowerShell quindi non per fare autenticazione ma per interagire con gli oggetti di Azure AD gruppi utenti eccetera questa parte qua è sempre stata problematica perché questo modulo non funzionava bene con PowerShell Core e quando hanno cominciato a sistemarlo comunque dava noie per via delle runtime richieste che non erano disponibili a bordo macchina adesso con qualche trick è in grado di funzionare e lì ci ha spiegato come farlo poi vi ho linkato un paio di articoli sul mio blog su come creare un SendGrid account di come fare l'autenticazione AD con la function e la logic app vi ho messo un esempio di un blog di un ragazzo di come fare la scalabilità come l'abbiamo affrontata noi ma più su larga scala questo lancia 800 istanze parallele e di nuovo un link a come funziona la scalabilità nel contesto di PowerShell grazie a tutti è stato un piacere essere qua e buona serata a tutti